ciao a tutti oggi vorrei parlare dell'operazione che si fanno sui finocchi in particolare lo sbiancamento una volta che avete messo di mora i finocchi vedete questo già preso bene bisogna coprire con della terra questa parte qui che crescerà mano a mano bisognerà coprire e tenere coperta così da farla sbiancare e poi quello che si mangia quando poi sarà pronto si estrarà tutta la pianta e qui ci sarà il vero finocchio quello che conosciamo io avendo qui messo i teli ho allargato il foro per far crescere il frutto e adesso vedete copro con della terra semplice terriccio di orto dovrò fare attenzione a rincalzare volta per volta ogni 10 15 giorni controllerò che la terra sia sufficiente altrimenti ne aggiungerò altra come vedete è un'operazione abbastanza semplice non richiede grande grande lavoro però bisogna farlo perché altrimenti non viene fuori un buon frutto solo un'ultima cosa concime io ho messo lo stallatico pellettato nella buca e intorno alla piantina quindi per adesso può bastare così non metto altro però è tutto vi saluto e vi ringrazio